eccoci qui in attesa dell'alba del sole sorger del sole Giulia c'è Max aveta lì purtroppo non l'abbiamo raggiunta abbiamo ancora un pezzettissimo dunque alle 6.21 eravamo già lì partiti alle 1.35 posso davrande adesso solo Grazie a tutti. 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 Madonna. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti.